Per affrontare l'autenticazione e l'autorizzazione sul web abbiamo bisogno di introdurre il concetto di sessione e il concetto e anche l'utilizzo dei cookie. Partiamo dalle sessioni. Le sessioni sono un meccanismo che è introdotto appunto sul web principalmente per mantenere uno stato all'interno di applicazioni web che scambiano quindi informazioni tra un client e un server. Il concetto di sessione è un concetto molto vecchio in un certo senso. Esiste da quando esiste un'applicazione web con l'autorizzazione. Ed è un concetto che nasce da un fatto. Il fatto che l'HTTP è stateless. L'HTTP non ha un concetto di stato. Ogni richiesta è indipendente dall'altra e dovrebbe essere autocontenuta al suo interno. Però un'applicazione web potrebbe aver bisogno di mantenere alcune informazioni tra le pagine. Se noi riempiamo il carrello per esempio su Amazon e inseriamo un prodotto da comprare e poi navighiamo su Amazon, l'informazione che abbiamo aggiunto un determinato prodotto che costava una determinata cifra e che magari abbiamo un determinato sconto perché abbiamo inserito un codice e siamo utenti Prime e quant'altro è un'informazione che vorremmo venisse mantenuta anche se continuiamo a navigare il sito, anche se magari apriamo un altro tab nel browser e apriamo un'altra pagina di Amazon, ritrovarci lo stesso carrello. Quindi vorremmo che queste informazioni fossero disponibili in tutta la nostra sessione di utilizzo del sito, dell'applicazione web. Quindi condividere e mantenere alcune informazioni in maniera un pochino più persistente tra le pagine e tra diverse interazioni. L'esempio del carrello è abbastanza emblematico. Noi riempiamo il carrello, possiamo continuare a comprare qualcosa e ovviamente non vogliamo che quello che abbiamo inserito nel carrello con le sue proprietà spariscono. Vogliamo che questo stato, il fatto che abbiamo fatto un qualcosa nel passato e stiamo continuando a fare qualcosa, che potrebbe andare a modificare quello che abbiamo fatto nel passato. Perché abbiamo inserito un oggetto nel carrello, stiamo navigando ancora e quindi magari aggiungeremo un secondo oggetto nel carrello o magari toglieremo l'oggetto che abbiamo inserito prima per metterne un altro. Quindi questo concetto di stato da ricordare mentre navighiamo il sito è quello che le sessioni alla fine rappresentano. La sessione è un pochino più formalmente uno scambio di informazioni temporaneo e interattivo, nel senso che non sono informazioni che devono essere mantenute necessariamente per sempre, come fossero in un database, ma sono informazioni che ci servono, informazioni di stato, informazioni che ci servono nel frattempo che stiamo facendo alcune operazioni e questo frattempo può essere molto breve, 10 minuti, un quarto d'ora o può essere molto lungo, giorni, settimane, però è temporanea, a un certo punto queste informazioni spariranno o perché spariranno normalmente o perché l'utente agirà su quella sessione, su quello stato e lo cambierà. E quindi sono dati che sono temporaneamente e in maniera interattiva scambiati tra due o più enti, per esempio i tuoi dispositivi, per esempio un dispositivo, una persona, per esempio un client, un server. E questo scambio, questo stato che viene scambiato e messo disponibile tra due o più enti, involve tipicamente lo scambio di uno o più messaggi in ogni direzione, quindi da un ente all'altro e da un'entità all'altra e dalla seconda entità verso la prima. E lo stato di questa applicazione, il carrello in un certo senso, è tipicamente tenuto da uno di queste due parti, da una di queste due entità. Nel nostro caso lo stato potrebbe essere o nel server o nel client, però il client se fosse nel server deve avere la possibilità di accedere a questo stato e allo stato giusto. Ritorniamo all'esempio di Amazon e del carrello. Io sono loggato su Amazon e inserisco qualcosa nel carrello. Quel qualcosa è un qualcosa, devo vederlo io, fa parte del mio stato. Se un'altra persona si logga su Amazon, avrà il suo stato e il suo carrello. Quindi il client, il sito web, che io vedo, che questa persona vede, che è tecnicamente lo stesso, perché sono due copie dello stesso sito che girano in due browser diversi, dovranno accedere entrambi, ipotizziamo, allo stesso unico server che gestirà il fatto che il mio carrello è legato al mio utente e il suo carrello è legato al suo utente. E lo stato di questo carrello è legato al mio utente e lo stato dell'altro carrello è legato all'altro utente. La sessione è tutto questo meccanismo che parte tra lo scambio di messaggi tra client e server e al mantenimento di questo stato che può essere nel client o nel server e tipicamente nelle applicazioni web, come quelle che facciamo, è spesso nel server. Però in alcuni casi può anche aver senso lasciarlo nel client. Ma appunto spesso è o da una parte o dall'altra. Difficilmente lo stato è condiviso all'interno di una sessione tra il client o il server. Molto difficilmente, direi quasi mai, se non mai è del tutto. E questa sessione è un qualcosa che viene stabilita da un certo punto in poi nel tempo e a un certo punto successivo nel tempo viene conclusa. Proprio perché è temporanea, non è pensata per essere persistente per sempre. Il meccanismo base per mantenere una sessione è l'ID di sessione. Cosa succede? Succede che immaginiamo la sessione come meccanismo non per mantenere un carrello ma un meccanismo per mantenere l'autenticazione di cui il carrello fa parte perché è legato per esempio a me come utente o a un'altra persona come utente e una volta autenticato il client quindi durante l'autenticazione il client chiede al server di stabilire una sessione e una volta autenticato il client riceve un ID, un identificativo della sessione che da una parte la conferma che la sessione è stata creata con successo dall'altro il meccanismo, l'identificativo che permette di riconoscere permette di mantenere questa autenticazione permette al client di rimanere autorizzato di chiamare il server e accedere a quello stato permette alla persona anche di rimanere autorizzata perché è legata al suo account al suo processo di autenticazione e questo ID di sessione permette appunto a richieste HTTP seguenti con l'altra autenticazione di essere riconosciute come valide come autenticate e quindi di ricevere una risposta positiva di una risposta adeguata e questo session ID ovviamente è scambiato è mandato dal server al client e quindi il client deve saperlo e deve ricordarselo ricordarselo finché la sessione non finisce e quindi deve essere da una parte memorizzato nel client dall'altra deve essere mandato dal client al server ogni volta che manda una richiesta che fa parte della stessa sessione e importante lo stesso le informazioni in questa ID di sessione questa ID di sessione non deve essere qualcosa che contiene informazioni sensibili può essere un numero può essere una stringa può essere un codice alfonumerico non è bene utilizzare come ID di sessione il codice fiscale di una persona per esempio quindi non devono essere informazioni sensibili deve essere un qualcosa che ci permette in maniera univoca di identificare una sessione non troppo legata o se possibile per niente legata all'utente specifico in modo da non poter risalire dall'ID della sessione a chi è la persona che ha creato in quel momento della sessione e questo ID di sessione che deve essere memorizzato nel client e mandato dal client al server tutte le volte è tipicamente memorizzato e mandato come un cookie i cookie magari l'avrete già visto in altri corsi ma sicuramente l'avete trovati da quei banner che da un paio di anni compaiono in molti siti web nell'Unione Europea sono uno standard sono definiti in un RFC e rappresentano una piccola porzione di informazione memorizzata nel browser piccola nel senso che un cookie è davvero piccolo in genere intorno a un kilobyte o qualcosa del genere e i cookie vengono gestiti automaticamente dal browser nel senso che appena il browser riceve un cookie sa come gestirlo senza bisogno che uno sviluppatore gli dica cosa fare di questo cookie e sono anche automaticamente inviati dal browser ai server corrispondenti quando si realizza una richiesta allo stesso dominio e allo stesso path quindi ogni volta che vi fate una fetch nel vostro codice se avete ricevuto da quel server in precedenza un cookie questo cookie viene rimandato se ovviamente quel server è nello stesso dominio per esempio localhost 2.3000 o desit.uniupo 2.80 e anche lo stesso path quindi questo meccanismo funziona se è lo stesso dominio comporta e lo stesso path ovviamente dato che ci possono essere motivi per far sì che un browser invia un cookie a un server diverso da quello che fornisce l'applicazione web che sta girando o con un path diverso da quello dell'applicazione web che sta girando che sta realizzando la richiesta sta realizzando la fetch per esempio ci sono opzioni per mandare i cookie in altri casi ma sono opzioni esplicite che lo sviluppatore deve inserire nel codice e dire per esempio la fetch manda i cookie esplicitamente se invece si è nello stesso dominio e nello stesso path questa richiesta è implicita e quindi lo sviluppatore non deve fare niente il browser in automatico li manderà e questo è comodo in un certo senso è comodo perché questi cookie una volta che il server li crea sono gestiti in automatico in maniera totalmente nascosta e trasparente allo sviluppatore che sfrutterà la loro esistenza per esempio per la creazione e mantenimento della sessione ma non dovrà modificare il proprio programma non dovrà inserire righe di codice per gestirli in ogni caso i cookie che possono anche essere utilizzati per contenere qualunque tipo di informazione nell'interno di un browser non necessariamente solo le informazioni della sessione non devono mai mai vedete anche scritto grosso in corsivo e grosso sottolineato in grassetto non devono mai contenere informazioni sensibili quindi la stessa cosa che vale per il session ID l'ID di sessione deve essere il più possibile slegato dall'utente dall'informazione che rappresenta eccetera quindi un ID di sessione può essere numerico una stringa alfanumerica un codice di 27 caratteri eccetera ma non deve mai tenere informazioni sensibili né il session ID né il cookie in generale per memorizzare un qualunque tipo di informazione e i cookie hanno alcuni attributi interessanti principali e sono questi cinque i primi due sono obbligatori ovviamente un cookie ha un nome e ha un valore questa piccola porzione di informazione che contiene dopodiché il cookie ha altre tre opzioni che sono opzionali l'ultima è una data di scadenza se questo cookie a un certo punto scadrà automaticamente e questa data di scadenza e tutti questi attributi sono impostati tipicamente dal server e questa data di scadenza è appunto una data che fa scadere il cookie può essere opzionale quindi il cookie può non scadere mai finché il browser non lo cancella o finché l'utente non svuota i cookie del browser o non disattiva i cookie altrimenti dopo una certa data il cookie verrà automaticamente cancellato dal browser gli altri due attributi importanti e interessanti sono Secure e HTTP Olli sono importanti e quando possibile è bene usarli tutti e quattro tutti e cinque scusate in particolare i primi quattro in quanto la data di scadenza può essere una scelta dello sviluppatore o del server ma i primi quattro è veramente importante utilizzarli i primi due sono obbligatori quindi per forza e gli altri due è importante utilizzarli per motivi di sicurezza il terzo attributo dice che il cookie è sicuro cioè verrà inviato al server solo se c'è una connessione HTTPS quindi l'informazione nel cookie che non deve mai essere sensibile è oltretutto crittografata quindi aggiungiamo un livello di sicurezza ulteriore quindi questo se possibile è bene impostarlo nel nostro corso e anche per l'esame in realtà noi useremo una connessione HTTP non una connessione HTTPS e quindi non imposteremo questo attributo nel mondo diciamo vero se dovreste fare un'applicazione web è bene considerare di attivare questo proprietà del cookie se dovete utilizzare un cookie l'altro attributo HTTP only è invece un attributo che andremo ad attivare che in realtà vedremo che nel creare la sessione la libreria che utilizzeremo la crea lo abilita automaticamente ed è un attributo importante perché previene alcuni possibili attacchi di sicurezza attacchi informatici di base che indica che questo cookie è un cookie che è solo per l'invio su HTTP e quindi è un cookie che diventa inaccessibile al codice JavaScript che gira nel browser un cookie con HTTP only non è visibile leggibile dal codice della vostra applicazione JavaScript che gira nel browser il browser lo vede perché deve mandarlo avanti e indietro ma voi non potete in JavaScript manipolarlo quindi diventa totalmente invisibile all'applicazione JavaScript che in alcuni casi può essere magari sconveniente perché magari da JavaScript ci faceva piacere andare a memorizzare informazioni in un cookie però da un punto di vista di sicurezza soprattutto quando si parla di sessioni è veramente importante averlo se ci servisse d'altra parte memorizzare qualcosa nel browser in maniera temporanea e di nuovo non informazioni sensibili potremmo per esempio utilizzare il local storage o il session storage che sono piccoli database disponibili nel browser e accessibili tramite HTML5 quindi tramite JavaScript esattamente come accediamo ad altre proprietà come funziona quindi questa sessione in pratica e come funzionano e qual è il ruolo appunto dei cookie in questa sessione in questa struttura fatemi permettere che ci sono due tipi principali di autenticazioni c'è quella session base che è quella su cui ci concentreremo e poi c'è anche un altro approccio principale che diciamo può essere usato 50-50 in contraposizione alla session base che è quella token base qual è la differenza principale tra session base e la token base è che nella session base si realizza una sessione e lo stato nel caso dell'autenticazione lo stato dell'utente è memorizzato sul server quindi questo stato starà in qualche storage sul server nel token base questo stato non sta sul server ma sta nel client quindi nella session base authentication ogni browser ogni applicazione client che gira sul browser potremmo anche avere 50 ha un unico punto che condivide lo stato che è il server quindi il server è il punto centrale che condivide lo stato nel token base nell'autenticazione del token base i browser i client web che girano nel browser avranno loro un token che contiene tutte le informazioni di stato e tutte le volte che devono scambiare le informazioni recuperare le informazioni del server devono mandare eventualmente al server le informazioni da questo token di cui hanno bisogno quindi la differenza principale al di là del fatto che qui c'è una sessione e di lì c'è un token che però è un oggetto più complicato rispetto a un cookie con session ID che si invia è che nelle session base lo stato dell'intera applicazione e dell'intera applicazione sta nel server quindi i 50 browser e i 50 browser che vedono che hanno una copia dell'applicazione web client-side accedono a un unico stato condiviso o accessibile da tutti centralizzato nell'altro caso ognuno delle 50 applicazioni web ha il suo stato individuale e comunica col server solo quando ha bisogno il secondo meccanismo con lo token base si chiama anche stateless perché in realtà il server non ha uno stato ma è ogni client che ha una sua piccola copia temporanea dello stato quella basata sulla sessione si chiama invece stateful perché appunto esiste uno stato condiviso da tutti ma concentriamoci su questo basato sulla sessione l'altro è solo una piccola digressione diciamo nella session based nell'autenticazione e autorizzazione session based lo stato è memorizzato sul server dove su server dipende in sviluppo è accettabile averlo in memoria quindi finché il server è acceso avremo le informazioni di sessione se abbiamo il server perdiamo tutte le informazioni della sessione ma in fase di sviluppo va bene se dobbiamo fare il deploy di un sito dobbiamo mettere un sito in produzione ovviamente non è tanto conveniente averlo in memoria e quindi in genere si ha uno storage su disco in un database su file in qualche altro meccanismo un pochino più persistente come funziona una sessione e anche un po' il processo di login allora il browser a un certo punto tramite un form fa una chiamata post a un certo indirizzo per esempio localhost .3000 slash login inviando nel corpo di questa post il nome utente e la password il browser fa questa post il server riceve questa post prende l'username e la password controlla se l'username è valido quindi se nel suo database ha un username uguale e se a questo username corrisponde la password e se è così crea un sessioned salva questo sessioned associato per esempio allo username e risponde a questa post con magari un 200k e a questo 200k aggiunge un cookie un cookie che contiene il sessioned il browser a questo punto ha un sessioned nel cookie ed è autenticato l'utente con questo username è autenticato con successo allora alla prossima richiesta per esempio alla richiesta una get di tutti gli esami per avere la lista degli esami come nel nostro esercizio il browser cosa farà? il browser farà la get ad esami ma dovrà a questo punto dimostrare di essere autenticato di di essere l'utente che ha fatto il login in modo che questo restituisca gli esami di questo utente che ha fatto il login non di un altro utente e quindi manderà il sessioned il serve in un cookie in maniera come dicevo prima trasparente ci penserà il browser se il server fornisce l'applicazione web se questo server fornisce l'applicazione web sullo stesso dominio e sullo stesso path cosa che nel nostro caso per esempio capita e quindi in maniera trasparente quando viene fatta questa get viene abbinato un cookie che conterrà il sessioned lo stesso cookie inviato dall'altra parte che viene mandato al server il server controlla se il sessioned che arriva dal cookie corrisponde a un sessioned al sessioned per quello username che ha memorizzato e se corrisponde risponde alla chiamata http con per esempio la lista degli esami appartenente a quel sessioned se questo sessioned non è valido perché l'utente ha fatto logout perché questo è un numero a caso diverso da quello che ha ricevuto questo server risponderà con 401 a un authorized proprio perché l'utente che ha fatto questa richiesta non sarà a questo punto autorizzato a ricevere la risposta e quindi non vedrà la lista degli esami quindi questa è l'autenticazione e questa invece è una chiamata su cui si verifica attraverso il sessioned che questo client è autorizzato questo utente è autorizzato a accedere a questa informazione di più se il sessioned non è quello corretto ovviamente non viene inviato niente ma se il sessioned fosse un sessioned per cui uno non ha il privilegi non è autorizzato ad accedere l'exam perché magari è un sessioned di un certo ruolo che non ha l'accesso a exam allora la risposta in questo caso di nuovo sarebbe un 401 un autorized un po' come se un utente semplice volesse chiamare delle funzionalità di amministrazione di un sito non può perché non è l'amministratore è un utente semplice una nota piccola sempre sulla sicurezza che ho già accennato prima quando è possibile e in produzione utilizzare sempre HTTPS e cookie sicuri per le sessioni parliamo per le sessioni e allo stesso modo usare quando possibile sempre e sempre per le sessioni cookie HTTP perché non sono leggibili da javascript e quindi sono un pochino più protetti perché perché devono essere leggibili da javascript perché in caso di un utente malevolo che voglia inserire del codice javascript nella vostra applicazione se il cookie fosse non HTTP potrebbe leggere le dili di sessione e quindi fare richieste a vostro nome a nome di un utente qualunque del browser e non è proprio proprio bello in generale mai memorizzare informazioni sensibili nel browser anche se sono sicuri HTTP Olli quando possibile per l'autenticazione e l'autorizzazione appoggiarsi sulle best practice su esperti di sicurezza e evitare di reinventare la ruota per l'autorizzazione abbiamo anni di esperienza alle spalle sull'autenticazione sul login sfruttiamoli non facciamo tutte le volte la stessa cosa dal principio e nel prossimo video vedremo come in pratica questo perché le applicazioni web possono essere esposte a vari tipi di attacchi base qui sono riportati due giusto per per conoscenza questo CSRF in cui un utente viene ingannato da un attaccante per sottomettere una richiesta HTTP che non vuole fare oppure questo XSS in cui un attaccante può iniettare codice malevolo nella pagina web allora vedete che per esempio l'HTTP Olli è una possibile soluzione magari parziale magari totale dipende anche un po' probabilmente dai casi e dalla capacità dell'attaccante ma è sicuramente qualcosa che può scoraggiare un attaccante perché perché anche se ho inietto codice javascript nella mia applicazione web che gira nel browser non posso accedere a cookie perché il cookie non è reggibile da javascript e molti di questi attacchi di queste best practice sono appunto prevenibili con un utilizzo proprio di framework di nuovo di best practice e di librerie dedicate per esempio per il CSRF esiste una libreria per express che si installa con npm install e si può utilizzare si configura con tre righe di codice per prevenire tutta una serie di possibili attacchi relativi al sito in maniera abbastanza standard in maniera abbastanza semplice che si installa